Telefonini e PC nonostante fosse ristretto in carcere per associazione mafiosa come affiliato al clan dei tuturanesi della Sacra Corona Unita, facente storicamente capo a Salvatore Buccarella e a Giuseppe Rogoli, al cui vertice ci sarebbe Francesco Campana. Dal penitenziario di Sulmona, Cristian Tarantino, 36 anni, di San Pietro Vernotico, condannato a 24, avrebbe continuato a mantenere contatti all'esterno e a impartire ordini per intimidazioni e danni di commercianti e imprenditori della zona. Quattro fermi firmati dalla PM Carmen Ruggero della Didia di Lecce sono stati eseguiti dai carabinieri. Tre sono residenti a San Pietro, Carmine Antonio Fellini, Omar De Simone, Daniele Posso e uno a Cellino, Antonio De Michele. Tutti sono accusati di associazione mafiosa, tentata estorsione, porto e detenzioni di armi da fuoco, lesioni personali, danneggiamenti con esplosivi o a seguito di incendio. Per tutti è stato ritenuto concreto e attuale il pericolo di fuga. L'indagine è stata condotta attraverso pedinamenti e intercettazioni anche telematiche e ha portato a delineare il ruolo di capo e promotore del gruppo a carico di Tarantino, in carcere da luglio 2016, considerato anche il mandante di intimidazioni via social alla ex moglie che lo denunciò per stalking dopo aver instaurato una nuova relazione e di un familiare della donna aggredito in occasione della festa patronale. Tre le tentate estorsioni contestate in veste di mandante, due ordigni davanti allo stesso negozio a ottobre 2022 e a febbraio 2023, nello stesso mese una sventagliata di almeno 15 colpi di Kalashnikov contro una saracinesca. Ricostruite anche azioni di delegittimazione nei confronti del comandante della stazione dei Carabinieri di San Pietro per ottenerne il trasferimento. Nel corso di un'audienza in tribunale il detenuto, in collegamento video, mostrò una foto sfocata che ritraeva il comandante per screditarlo, foto in realtà artefatta. Nell'inchiesta alla fine dello scorso mese di novembre venne arrestato un minorenne trovato in possesso di un ordigno e di un accendino.